Il deputato Lobrigi dà la facoltà. Grazie Presidente. Intervengo per proporre al Parlamento di lavorare. Noi ci troviamo anche questa mattina così in attesa di capire quale sarà il destino di quest'Aula rispetto a preannunciati vertici tra due leader politici mai eletti dal popolo italiano. Sembra che il Parlamento italiano eletto debba aspettare che il teatrino si compia, che ci sia una scena come al solito utile più ai giornali di gossip che alle imprese, alle famiglie italiane che vorrebbero sapere come si può sostenere la loro attività, la loro stessa sopravvivenza in un momento in cui l'inflazione alle stelle, in un momento in cui c'è una crisi energetica che attanaglia l'intero mondo e sul quale purtroppo l'Italia arriva in grave ritardo per responsabilità imputabili al malgoverno degli ultimi dieci anni. Ora io propongo di lavorare, nel senso che siamo qui in attesa che il Ministro d'Inca, anche questa mattina, si proponga a quest'Aula come rappresentante di questo ormai disallineato governo e chieda un nuovo rinvio, senza motivarlo ovviamente, senza spiegarne le ragioni, ma insomma vediamo se questa mattina avrà il senso del pudore di spiegare al Parlamento italiano perché il Governo impedisce di trattare nella maniera più normale possibile un decreto come quello che è all'ordine del giorno. Allora io propongo ai colleghi e al Parlamento di lavorare come, visto che il Governo non è in grado e questa maggioranza non è in grado di proseguire serenamente qui alla luce del sole un dibattito sui temi, invertiamo l'ordine del giorno e cominciamo a ragionare gli argomenti che interessano agli italiani. Per quello che ci riguarda, Fratelli d'Italia per esempio ha calendarizzato, se ne è fatta la discussione generale, quindi si tratta adesso delle due ore di discussione e di definizione si può votare sugli interventi in favore delle imprese turistiche e del mondo agricolo che attendono di sapere se c'è da parte di questa maggioranza, di questo Governo, qualche soluzione alla perenne mancanza, da quando c'è il reddito cittadinanza, di personale, persone che lavorino, che producano, che rendano l'economia italiana un'economia che riesce a dare risposte e a far crescere la nazione. Allora la nostra proposta oggi è lavoriamo, queste ore che si preannunciano di vagabondaggio nei corridoi del Parlamento siano sostituite in quest'Aula da discussioni su temi che interessano agli italiani. Se non andasse bene la mozione di Fratelli d'Italia proponete voi un tema da discutere ma non vi svilate perché c'è un Governo che non governa, ma c'è un Parlamento che si deve guadagnare lo stipendio qui dentro discutendo di temi che interessano gli italiani. Proponete colleghi eventualmente altri temi, ma non passiamo questa mattinata inutilmente come abbiamo fatto già nelle giornate che hanno preceduto quella di oggi. Grazie. 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 Grazie.